Grande attesa a Gioiosa Marea per uno degli eventi dedicati al cibo più importanti di Sicilia. Gioiosa gustosa, l'itinerario di sapori tra le piazze e le vie di Gioiosa Marea, torna per l'ottavo anno consecutivo. Questa edizione, che sarà aperta giovedì 1 agosto con l'arrivo del carretto siciliano, si svolgerà in quattro giornate, dall'1 al 4 agosto a partire dalle ore 20 e porterà in vetrina, come da tradizione, i piatti e i prodotti tipici dei nebrodi e di tutta la regione. Noi continuiamo un filo conduttore che è quello del mangiare bene e dei prodotti tipici della Sicilia partendo dai nebrodi, che è l'ordine di misura che abbiamo preso il primo anno. Quindi rispetto a questa riteniamo una manifestazione che vuole guardare alla società e al cambiamento in positivo rispetto al mangiare bene, all'alternativa rispetto al biologico, avere tutto un lavoro di questo tipo. Quest'anno noi affrontiamo un tema dentro un convegno che vedrà la presenza di varie personalità regionali, fra l'assessore, deputate e parlamentari europei, che è il tema della pesca. È un tema che è il pesce azzurro. È un tema che lo facciamo fra l'altro con un esperto di questo settore che si occupa di pesca e di pratica per la pesca in questi anni, perché vogliamo dare un'opportunità anche a questo territorio affinché la pesca abbia un suo sviluppo anche dal punto di vista turistico. Fra l'altro partecipa una cooperativa di Messina che è l'Efeluga dello Stretto, che fanno turismo tramite questa via dentro lo Stretto di Messina. Quest'anno abbiamo anche lo Street Food Palermitano presente dentro la festa. Ci sono anche i prodotti a malegrano che sono prodotti che stanno andando ultimamente molto di moda e c'è un produttore di Alcamo che proprio dalla piantaggione alla trasformazione sono tutti fatti da loro. E poi c'è tanta diversità sui novi nero di Nebrodi, c'è anche dal punto di vista della presenza, per quanto riguarda la sassiccia e i panini che si possono fare anche con questi prodotti. Voi sapete che il sui novi nero di Nebrodi è uno dei prodotti che va per la maggiore in questo territorio, è uno dei punti di forza, dovrebbe essere uno dei punti di forza del territorio di Nebrodi. Quanti espositori verranno coinvolti? Ma arriveremo a oltre 60, ci sono anche degli hobbysti che fanno prodotti particolari come hobby e che mettono in esposizione, quindi non c'è solo il mangiare, c'è anche altro. L'allocation è la solida, il centro di Gioiosa, perché pensiamo che Gioiosa non ha un vero e proprio centro storico, resta però il punto di partenza, la piazza del municipio, non la chiamiamo piazza Cavour, che è la piazza storica di tutti gli spettacoli che sono fatti negli anni.